Ciao a tutti, sono sempre io, Puffo noioso, che brontolone, Puffo sapientone, Puffo comune, quello che è, io sono Puffo quattro occhi e lui è Paolo Paoliniu, ciao! Speriamo che ci sia l'immagine di Paolo Paoliniu, lo stanno cercando chi dà che è, perché, guarda, lo registriamo sempre di notte, l'abbiamo fatto, l'abbiamo registrato prima che sciisse, va. L'abbiamo registrato dopo l'altro video, della prima parte, quindi, guardate queste immagini, sembra una famiglia completa guardare la macchina di dole zoccare, sembra tu, e la fantasmini, la vetri bianca, il dibag, c'è una arpa, e lì sei in frenzio di topo a peparo, quindi, bella immagine, complimenti, e te lo ricordate questa sfaccia? Speriamo gli universi, trasformazioni, noi siamo gli universi, andiamo a sconfiggere il mondo, noi siamo gli universi, con il nostro potere noi facciamo tutto, anche configgiamo i cattivi, siamo dei supereroi, una bella squadra, sì, gli universi! Serie originale di franco e francesco, la prossima volta lo chiamiamo serie originale di franco e francesco, ma si chiama gli universi di avventure di franco e francesco, vabbè. Poteva scrivere gli universi remake, guarda, gli universi remake, serie originale di franco e francesco. Beh, povero Paolo Paniniu, ma lo scoprirete la sigla della seconda stagione, perché l'abbiamo registrata prima che uscisse la seconda sigla degli universi seconda stagione. Vabbè, facciamo le analisi del primo episodio, grazie. Gli universi, benvenuti in città! Benvenuti in città, storia ideata degli Easy Friends e tupope e parodie, ok? Beh, a me sembra tutto reality, siamo solo orsi, vabbè. Oh, ciao! Io sono Easy Friends, i tupi e parodie. Allora, il disegno di Easy Friends, i tupope e parodie, sembra una ragazza con i capelli castani, con cosa da cucinella. Non si sa dove lo mette, bella, il disegno è fatto bene, ha la maglietta a maniche corte rispetto alla maglietta a maniche lunghe, a tutta l'ora di universi, ma gli tende è... E... Gona da cucinella e guarda che scarpe. Quello batte il disegno, sembra Carlotta e Francesco. Questo disegno, complimenti di Easy Friends, i tupope e parodie di questo. Ma... Mi odi ancora, vero? Sì, pfff! Mi racconto la mia storia. Sono nata il 3 luglio 2009. È nata il 3 luglio 2009. 3 luglio 2009, abbiamo perso il suo compleanno, che peccato. E mi piace tantissimo i miei cartoni animati. Si sbaglia di parole di video in franzè? Si sbaglia. Gli anime, i manga e tante altre cose. Il mio cartone... Gli anime, i manga. Ma... Elisa è in franzè tutto il papà parodie. Ti piace, Magica, adorimi? Scrivi in un commento qui sotto. Ferito e Miraculous, le storie di Reddy Bug e Chat Noir e altri cartoni animati. Vieni, volete vedere la mia città? Sì! Elisa fa la protagonista in questo... Gli universi remake... Sì. Elisa, invece di Franco e Francesco, lo fa Elisa. Perché gli universi è diventato popolare. Speriamo che Elisa in franzè facesse le collisioni di Paolo Paoliniuf. Beribisgo, dai ti prego Elisa in franzè, tu puoi per parodire e fai la versione parodia di le collisioni di Paolo Paoliniuf. E Beribisgo! Vito nella città dei youtubers, siete pronti ad andare? Andiamo! Questo è il mio amico Paolo Paoliniuf. Allora, la versione di Paolo Paoliniuf sembra questa versione, te lo faccio vedere. Non facciamo spoiler, ok? Sembra, sembra il nuovo design di Bobbi delle Beribis Go Force, sembra. Ma è sempre con la salopette, corta come le Beribis normale, ma c'è un gna. Disegnata da Elisa e Fressi di Pop e Parodie. La maglietta a maniche lunghe. Wow! Meglio a maniche corte come le Beribis, sembrano le Beribis. Vabbè. Tanto Paolo mi sembra Bobbi delle Beribis Go, vabbè. Indossa gli occhiali nuovi, ma lo scoprirete spoiler nella seconda stagione di Beribis Go che uscirà nel 2024. E non ricordatevi, vabbè. Puffo 4 chi parla sempre, lo sai? Sì, lo so. Comunque il disegno di Bobbi delle Beribis sembra... Un personaggio di un cartonmato per bambini. Un personaggio di Beribis, ma sembra Beribis Go. Occhiali di Bobbi delle Beribis. È tutto Beribis. Wow. Continuiamo la reggia. Ha 19 anni ed è maggior... Esatto, 19 anni. Ma questo video l'ho registrato prima che Paolo compisse 20 anni. Ed è nato... Renne. Il 26 agosto del 2003. Lui adora le Beribis e SpongeBob SquarePants. E ha paura di uno spot pubblicitario. Quello dello spot tabù. Ti mangiami la giornata, vuoi sapere perché? Se tu... Beh, poi il disegno di tabù ne parleremo dopo. È nato, è meglio di te. Toh, toh. Toh, tabù. Che poi il disegno di tabù è solo colorato... Il fiocco nero. Sì, solo il fiocco rosso. Questo triangolare mi è fatto un po' perfetto. E lì si è infessuto pover parodie. Le mani bianche di tabù... Sembrano mani. Vabbè. La bocca di tabù sembra un polpo. Come abbiamo già detto in... Nel video di Paolo Paolino Vestra, Franco Francesco e Ryan Fan Che adesso è Paolo Paolino Vestra agli universi canale ufficiale Agli occhi da... I Simpson Triangolare, tutto triangolare Con il triangolare, triangolare Con cinque ditta Da tabù Sembra questo tabù Quello che appare nel sito internet Che è tutto bianco Sembra il fratello di Tabuina E... C'ha il fiocco nero E qua c'ha il fiocco rosso Sembra tabù della nuova versione del sito Ma con il fiocco nero Rosso Scusatevi Questi non sono animati in stop motion Ma sono animati in mani Come negli ultimi episodi degli universi stagioni 1 Perché gli universi stagioni 2 Sano animati in stop motion Ok? E nel suo canale pubblica recensioni di cartoni Esatto E anche un canale extra che si chiama Paolo Paolino Vestra agli universi fan Scusa, agli universi canale ufficiale Scusa, agli avventure di te dice Katus Grazie Elisa & Friends che ci hai menzionato Beh, mi registro con l'occhio finto perché ho disegnato l'occhio solo negli universi Vabbè Katus Salute Elisa & Friends Ciao Grazie che ci hai menzionato Elisa & Friends Scusa Perché adesso il nuovo conduttore di adulto reality universi è Popfiz E lo saluto Ciao Popfiz E eccetera 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 Ma non hai visto Non mi hai conosciuto Non hai conosciuto Paolo Paolinov in un video Ma Nei commenti proprio come Franco e Francesco Ma stai scherzando 2 maggio 2022 Ma Ma tu Elisa & Friends Il tuo povere parodie Non segui i video Tu fai i video Ma senza commentare i video di Paolo Paolinov Quindi non sei la fidanzata di Paolo Paolinov, vero? Forse Ma probabilmente ci sarà nello speciale Il primo speciale degli universi Gli universi da grandi Boh Vabbè Vabbè Passiamo nel prossimo personaggio Quello di Bobby è fatto dal disegno Di Paolo Paolinov Vabbè Se la scordi Questo è Uva Ryan Ma guardate com'è brutto Uva Ryan Sembra Il colo di una giraffa Un disegno quadrato Se sa il naso ovviamente Una benda sull'occhio nero I capelli neri La maglietta Ha maniche corte ovviamente Non di Paolo Paolinov Che ha maniche lunghe Va bene Ha questo simbolo viola Sul Sulla maglietta Alle mani Sembra Tutto rosa Sembra E hai pantaloni Bianchi invece Di pantaloni corti Vabbè È fatto così Uva Ryan Siamo fatti così Pian è il migliore amico di Paolo E anche il mio Ha nove anni 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 Ma in verità Uva Ryan ha commentato In uno short di Elisa ha preso Tutto po' per parodi E risposte da Uva Ryan E ha detto Io ho dieci anni Dice Uva Ryan Io ho dieci anni E E Sembra Tutto po' per parodi Ha solo sbagliato Vabbè Sbagliando si impara A nove anni Ha dieci anni Ed è nato Il 6 dicembre Del 2012 Bene Grazie delle altre spiegazioni Puffo quattro occhi Il 6 dicembre del 2012 È nato E pubblica Negli shorts Dei Video con Dei peluche Senza titolo Esatto Noi lo odiamo Il Il shorts Dei peluche Senza titolo A Teddy Seccato Si è piaciuto Si 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 Ma adesso Uva Ryan Fa Dei video Con il titolo Shorts Ma con i personaggi Degli universi Di Terrayan Shove Fa anche Terrayan Shove Lo sai? Oh E basta Poi pubblica Anche cose con Paolo E anche Qualcosa di strano Si Esatto Va Ryan Ma tu Ti connetterai Su Messenger Facebook Whatsapp Instagram Ci contatterai una volta? Scrivi nel commento qui sotto Se hai Instagram Messenger Facebook O Whatsapp Scrivi Elisa Scrivi E mi adora Grande Prima Odiava Paolo Ora Sembra che è sbagliata che lei Comunque sembra la maniera di Franco e Francesco Eccoli Sono Franco e Francesco Questi qui Sono Franco e Francesco Wow Con me sono fatti bene Franco e Francesco Continua Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Grazie per la visione!